Bene, anche oggi del laboratorio di sound machine con Valentino per vedere Tiziano all'opera su una Ferrari F430, come vedete si è già prodigato a smontare le parti interne, non spaventatevi, siamo molto bravi a intervenire sulle vostre vetture, qui Tiziano sta preparando un dispositivo di antifurto e un piccolo intervento a migliorare le performance acustiche di questa vettura, volevamo solo farvi vedere Tiziano all'opera che ci sembrava opportuno, eccolo lì da gran professionista, su una bella F430. Bene, arrivederci nel laboratorio di sound machine, a presto, ciao Valentino.